Ciao amici miei, benvenuti nel canale, se tu non sei iscritto al canale. Iscriviti al canale per non perderti nessuna novità della più grande squadra d'Italia. La dirigenza di Anconera valuta un giovane portiere, per al luogo di Scesni. Scesni, attuale portiere della Juve, ha un altro anno di contratto con la Madame, e il suo futuro alla Juventus è indeciso. Non sappiamo se la Juventus rinnoverà con il polacco, ci sono anche altri club che hanno un interesse per Scesni. Ecco perché la Juventus sta già guardando il mercato alla ricerca di un nuovo nome. E la Juventus sta monitorando un giovane proveniente da Valencia. Vuoi sapere chi è? Prima lascia un like. Perché i tuoi like mi motivano a fare video ogni giorno per te. Ok, continuiamo. Quindi, secondo le informazioni provenienti da un portale di notizie. La Juventus sta monitorando il portiere Giorgi Mamardashvili. Il giovane portiere 22enne. Gioca per il Valencia e per la Nazionale della Georgia. A Valencia è il titolare assoluto nella sua posizione. È dato come una delle più grandi promesse nella posizione, molto bravo nelle difese difficili. È molto veloce per la sua altezza che è alta 1,97. E la Juve guarda già al futuro di Giorgi Mamardashvili. Mamardashvili ha un grande potenziale, e alla Juventus potrà svilupparsi ancora di più. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo video.